Salve a tutti e ben ritrovati, è arrivata come previsto l'ondata di freddo, la neve non è mancata in tutta la Puglia, dal Gargano fino alle spiagge biancate sul Salento, ma un graduale miglioramento ci attende per le prossime ore, infatti la massa d'aria gelida punta adesso alla Grecia e alla Turchia lasciando le ultime ore di stabilità, poi spazio ad un miglioramento del quadro meteorologico in Puglia, ma non mancherà qualche insidia, vediamo insieme come andrà da oggi fino a giovedì sulla nostra regione. E infatti nella giornata di oggi al mattino avremo gli ultimi fenomeni anche nevosi a quote molto basse, fin verso le pianure, specie sul Brindicino e Leccese, qualche ultimo fiocco anche sulle murge non segnato in cartina, proprio perché si tratterà di fenomeni sporatici e di veloce durata. Per quanto riguarda il resto della regione avremo alternanza di nubi e schiarite con ventilazione ancora moderata dai quadranti settentrionali, ma attenzione al pericolo ghiaccio su tutte le zone interne e anche pianeggianti, saremo intorno allo zero al primo mattino, abbondantemente sotto zero sulle alture di Gargano e Subappennino dove arriveremo anche a meno 5-6 gradi e anche sull'altopiano delle murge in Valle d'Itria andremo sotto di 2-3 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, martedì 16 febbraio, avremo ancora un lieve ulteriore miglioramento con più schiarite che comunque saranno sulla Puglia centrale settentrionale e ancora qualche addensamento sul Salento ma senza precipitazioni aumentano velocemente le temperature massime che supereranno i 10 gradi ovunque con punte fino a 12 gradi in Salento ma attenzione al mattino ancora al pericolo ghiaccio su tutte le zone interne anche in pianura fino a meno 1-2 gradi sul tavoliere, freddo intenso anche sull'altopiano delle murge sulle alture di Subappennino e Gargano, ventilazione ancora debole o moderata dai quadranti settentrionali. Nella giornata di mercoledì 17 febbraio si rinforza ulteriormente l'anticiclone quindi avremo una giornata che vedrà cielo in prevalenza poco nuvoloso ma la Puglia si troverà comunque ai margini di questa cupola anticiclonica e infiltrazioni di aria fresca continueranno a farsi sentire con una ventilazione che sarà ancora moderata dai quadranti settentrionali ma le temperature aumenteranno ulteriormente nei valori massimi ancora molto freddo però al primo mattino. Infine chiudiamo con giovedì 18 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso ovunque, ventilazione moderata dai quadranti settentrionali, le temperature segneranno un ulteriore linee aumento sia nei valori massimi che raggiungeranno fino a 15 gradi mentre le temperature minime aumenteranno leggermente freddo sulle zone interne ma molto meno probabili le gelate in pianura. Grazie per l'attenzione vi aspetto come sempre venerdì iscrivetevi al canale youtube di R.A. News